Loro sono Meg, Amy, Beth e Joe. Sto lavorando a un romanzo. È la storia della mia vita e di quella delle mie sorelle. Che sia breve e piccante, e la protagonista deve essere sposata entro la fine. Dai, Joe! Voglio fare l'artista a Roma ed essere la più brava pittrice del mondo. Anche tu, Joe, vuoi diventare una scrittrice famosa? Ma è così volgare quando lo dice lei. Le mie ragazze hanno un talento per le monellerie. Beh, ce l'ho anch'io. Loro sono Meg, Amy, Beth e Joe. Voglio farmi la mia strada nel mondo. Nessuno si fa strada da solo, mentre meno una donna. Devi trovare un buon partito. Ma tu non sei sposata, zia Marge. Ma che c'entra? Io sono ricca. Joe, vuoi ballare con me? Non posso, perché ho bruciato il vestito e Meg mi ha detto di stare ferma, così nessuno lo vede. Io ho un'idea per rimediare. Joe è una causa persa. Sei tu la speranza della famiglia ora? Io penso che possiamo decidere chi amare. Non è una cosa che capita per caso. Credo che i poeti non siano d'accordo. Possiamo andare via. Adesso io venderò racconti. Joe... E tu, tu dovresti fare l'attrice, passare la vita sulle scene. Se i miei sogni sono diversi dai tuoi, non vuol dire che non siano importanti. Teddy... Ti ho amata da chi ti ho conosciuta, Joe. Non posso farci niente. Sarebbe un disastro se ci sposassimo. Non sarebbe un disastro. Saremmo infelici. No, sarei un perfetto santo. Non posso. Una nuova commedia scritta dalla signorina Joe March. Le donne hanno una mente, hanno un'anima e non soltanto un cuore. Io voglio essere il massimo. O niente. Hanno ambizioni, hanno talenti e non soltanto la bellezza. Sono così stanca di sentir dire che l'amore è l'unica cosa per cui è fatta una donna. Sono così stanca di questo. Certi temperamenti non si possono domare. Quindi, chi è che sposa? Millie Bobby Brown ha raccontato che il suo primo bacio l'ha dato a Finn Wolfhard sul set di Stranger Things. È stato orribile, ha dichiarato nel backstage tutti ci guardavano ed è stato imbarazzantissimo se immaginare. Qual è il vostro personaggio del cuore? Fatemi sapere nei commenti e guardate che figa la mia maglietta in infobox trovate il link per comprarla. Ciao da Valeria.